Andremo alle impostazioni Sfondi e temi Una volta qui, vediamo che abbiamo diverse opzioni di pagamento di seguito Per mettere una nostra foto, faremo clic su Vedi tutto Una volta dentro, diamo galleria Selezioniamo la foto e otteniamo diverse opzioni di seguito Daremo il sermato a home Attare un esempio di come lo vedremo Diamo imposta come sfondo Vediamo che è pronto Grazie a tutti Grazie a tutti